Aleandra Checacci è stata ritrovata dai carabinieri di Bibiene e Prato Vecchio Stia. La donna attualmente è ricoverata all'ospedale di Saronno in provincia di Varese, dove era stata portata in stato confusionale. Si concludono così le ricerche della 43enne, della quale si erano perse le tracce lo scorso 31 luglio, quando era uscita da una casa famiglia di Prato Vecchio, nella quale era ospite senza più rientrarci. Da quel momento erano scattate le ricerche e il suo cellulare, dopo aver squillato per due giorni a vuoto, è risultato sempre spento, l'ultima cella agganciata in zona Firenze. La 43enne aveva confidato alle amiche di volersi allontanare dal casentino e ricostruirsi una vita. Il caso, nelle scorse settimane, era stato affrontato anche dal programma televisivo Chi l'ha visto, che da anni si occupa di persone scomparse. Gli inquirenti per mesi hanno portato avanti le indagini, ieri finalmente sono riusciti a rintracciarla. La svolta è arrivata quando i militari hanno cominciato a concentrare le investigazioni sulla cerchia relazionale, in particolare sui rapporti con un'amica di Bibbiena, molto vicina alla defunta madre di Aleandra. Le indagini hanno così portato attraverso una serie di riscontri, a capire che la donna dal momento della scomparsa era ospite di alcune persone residenti in Lombardia. Attualmente sono in corso anche ulteriori approfondimenti per accertare il ruolo di queste persone nel suo allontanamento che per il momento resta volontario.